La carta dedicata a te è rivolta a persone che hanno un reddito inferiore ai 15.000 euro. Per il Comune di Napoli gli aventi diritto sono 62.400, ma le coperture economiche del Ministero sono solo per 32.000 aventi diritto. Quindi fondamentalmente restano fuori 30.000 persone. È una misura ministeriale. Noi come amministratori comunali la subiamo, cioè nel senso che non abbiamo noi dato i parametri per la selezione, non abbiamo noi selezionato l'elenco degli aventi diritto, abbiamo un link che possono trovare sul sito del Comune di Napoli, si può accedere attraverso Speed o attraverso il sostegno del proprio CAF. La persona interessata può vedere se è nell'elenco. Se sono superati dai nuovi arrivi e scendono al di sotto i 32.000, hanno diritto ma non ci sono i fondi e quindi non lo avranno. Non bisogna contattare gli uffici del Comune, il Comune non può fare nulla. Voglio ricordare che la card può essere usata per generi prima necessità alimentari, per carburante o per trasporti pubblici. Deve essere attivata entro il 16 dicembre e deve essere spesa entro il 28 febbraio.